oggi ho un super mega iper annuncio per voi bella raga sono Steven Basalari oggi lunedì lo sapete giorno di grandi annunci ma oggi a maggior ragione è ancora più grande perché non ho un nome, non ho due nomi non ho tre nomi ma ben sei nomi da comunicarvi questo sabato il 20 maggio sperando che il tempo ci grazie inaugureremo veramente i giardini estivi con le sale esterne, sale cascate sotto le stelle bellissima premetto anche però che in caso di maltempo la serata è comunque confermata ho tantissime sale, lo sapete, chi usa, perde neve, pioggia, sabbia c'è sempre il number one aperto l'ospite in questione è stato al number one inizio inverno dell'anno scorso torna con noi il mitico Pachi qua Nico cosa ho fatto stanotte? non ho dormito, ho disegnato Pachi e Steven Basalari ti manca solo il pittore da fare ora è arrivato il momento di svelarvi gli altri cinque nomi che verranno al number one ma non sabato questo il 20 maggio insieme a Pachi ma bensì sabato 10 giugno e cosa c'è sto 10 giugno? il 10 giugno c'è School is Over che è lo school party più grande d'Italia ed è proprio per questo motivo che vi sto avvisando con grande anticipo visto che ci sono già online i biglietti e stanno andando a ruba quindi vi do modo di potervi organizzare prima per questo evento abbiamo cercato di accontentare un po' tutte le clientele infatti ci saranno ospiti molto diversi fra loro che ora andrò a lancarvi primo ospite ormai è un fratello è di casa uno degli inventori della trappa in Italia che se ne dica proprio lui ragazzi bello figo con uno stile tutto loro arrivano per la primissima volta al number one l'Assad passiamo al terzo nome è già stato al number one un grande ritorno è in fase di continua crescita il suo nome è Icy Sub-Zero quarto nome è un rapper emergente il suo nome è Kid Yuji e quinto ed ultimo nome è un DJ fortissimo nei mashup nei remix e in tutto quello che riguarda il divertimento che farà esplodere la pista dispone sempre di occhiali veloci il suo nome è Young Mice per ora vi ho svelato solo 5 dei nomi che verranno il 10 giugno ma in realtà gli ospiti saranno oltre 15 quindi man mano ne usciranno degli altri Tik Tok personaggi televisivi influencer DJ di tutto ancora molti nomi devono arrivare cerco sempre di accontentarvi vi ricordo anche che questo evento è un multisala quindi abbiamo tante sale aperte con tutti questi generi separati così che possiamo soddisfare le richieste di tutti quindi non vi resta che prendere questo video farne tesoro con i vostri amici condividetelo commentate con altri nomi che io sapete leggo e vi porto mettete like e niente vi chiedo solo questo massimo supporto io vedrò sempre il mio impegno per voi bella raga grazie a tutti